E ora vi parliamo di una coppia E ora vi parliamo di una coppia che subito dopo ha avuto una, repentina caduta, infatti non si sono più visti insieme almeno fino ad adesso. E l'adesso è stata proprio la festa di signorini organizzata a Rimini per chi, dove erano presenti veramente in tantissimi ex dell'ultima edizione del grande fratello VIP, fra cui proprio Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalvese e subito è stato notato che i due hanno passato buona parte della festa assieme. Ma a quanto pare secondo gli esperti di gossip Dejanira Marzano e Amedeo Benza ci sarebbe molto di più, infatti dichiarano che. Dichiara Dejanira Marzano di Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalvese. Non tutti sanno che dopo la festa di chi i due ex vipponi si sono visti e hanno passato la notte insieme vicini vicini. Visto che dite che non facciamo mai i nomi diciamo che pare che Ginevra e Antonino siano rimasti in ottimi rapporti. Che i due si stiano riscoprendo? Grazie a tutti.